Allora, ripartiamo da dove ci siamo lasciati, creiamo soltanto un collegamento. Abbiamo detto praticamente che i progetti hanno un ciclo di vita, ci sono sei fasi, sei step importanti che abbiamo visto prima, l'ideazione, l'attivazione, la pianificazione, l'esecuzione divisa in quelle due sub-fasi, cioè attuiamo il progetto ma lo completiamo perché potremmo avere necessità di prolungarne la vita per avere finanziamenti pubblici e poi tutto il tema della valutazione. Dopodiché ci eravamo lasciati su questo, entrando nel vivo della fase ideativa, abbiamo tracciato una sorta di agenda delle cose che ci troviamo dentro. Tre gambe, tre pilastri. Uno che abbiamo chiamato quello degli assunti progettuali, cioè i punti di partenza, le cose che in qualche modo danno lo start. Poi abbiamo tutto un tema di disegnare l'indirizzo strategico, il profilo strategico del progetto e cominciare a mettere anche dei paletti abbastanza importanti. E poi abbiamo tutta la parte più legata proprio alla concettualizzazione del progetto e quindi lo sviluppo dei contenuti. Naturalmente noi in linea di idee di massima possiamo aver estratto, tirato fuori dagli assunti o anche dai ragionamenti strategici. Dentro questa cosa, lo ripeto semplicemente perché è importante, ci sono due concetti fondamentali che sono l'offerta del progetto, cioè quello che il progetto mette a disposizione, e poi come quello che accade a una struttura logica, quindi un palinzesto. Allora proviamo a fare delle incursioni in queste cose per capire se noi possiamo segnarci degli elementi, come se forse una sorta di checklist, delle cose da non perdere, da non dimenticare. Cominciamo dagli assunti. Allora, guardate, la prima cosa importante sono le esigenze di partenza, cioè perché stiamo approcciando a un progetto? Cioè da dove siamo partiti? Qual è stata in qualche modo la motivazione? Possiamo tracciare una serie di esigenze, però non considerate una lista esaustiva, perché ci possono essere veramente n motivi che fanno sì che a un certo punto ci dedichiamo un lavoro di progettazione. Naturalmente al primo posto abbiamo tutte quelle esigenze che sono proprie, cioè esigenze legate a un interesse che un progettista di natura culturale, di natura artistica, di natura scientifica, insomma, sono io che in qualche modo avverto l'esigenza di lavorare su un determinato argomento, su un tema, su una priorità e quindi, come dire, soddisfo un'esigenza che è assolutamente individuale o collettiva se nasce per esempio da un contesto associativo. Invece ci potrebbe essere un'esigenza che è più legata a politiche, che possono essere sia pubbliche che private. Per esempio il fatto che il progetto sia la traduzione di un programma, oppure sia un pezzo di un programma, l'esplicitazione di un programma, questo per esempio potrebbe essere un aspetto importante di una politica pubblica. Naturalmente noi ricordiamoci sempre che abbiamo necessità di vedere le politiche culturali sempre in collegamento con altre politiche attive pubbliche, cioè politiche giovanili, politiche sociali, politiche turistiche, politiche di valorizzazione urbanistica. Visto che ne parlavamo a tavola, qual è il grosso merito dell'azione ECOC, della Capitale Europea della Cultura, che mette in sinergia, in convergenza politiche diverse? Quando noi invece sappiamo che soprattutto nel nostro paese c'è la tendenza a tenere separate le responsabilità legate alle politiche. Cioè gli urbanisti fanno le politiche urbanistiche, chi fa il welfare, i servizi sociali si occupa di quello e quindi le modalità, le possibilità, le occasioni di incontro sono sempre legate all'iniziativo, all'intelligenza del singolo decisore politico. Che dice? Eh ma la chiavetta, stiamo leggendo la chiavetta. Allora, quali possono essere invece le strategie private? Le fondazioni bancarie. Per esempio la fondazione bancaria che deve portare avanti certe politiche che sono legate istituzionalmente al loro ruolo, sul terzo settore. Allora facciamo così. Apri. Ok. Io ti riduco. E quindi ovviamente lì ci possono essere dei progetti che nascono da queste necessità. Altri tipi di esigenze. Per esempio noi potremmo avere delle progettazioni più tecniche. Non lo so, ho un contenitore culturale e devo riorganizzarlo. Ho un'associazione che si deve strutturare, lo dico perché ne abbiamo anche un po' parlato. Devo fare un progetto di riorganizzazione, di ridefinizione. Oppure per esempio una tipologia molto precisa di progetti, un business plan. Noi normalmente, diciamo, lo vediamo anche per i contenitori culturali, usiamo praticamente anche delle etimologie che nascono e vengono da settori molto più generalisti. Per esempio si usa molto spesso il discorso del piano industriale. Ma il piano industriale che è un tipo di progettazione, insomma, c'è una contraddizione nei termini, nel senso che praticamente non è solo il problema dell'aggettivo industriale, è che probabilmente lì non ci sono, come dire, delle... Io poi tra l'altro mi sono portato anche dei progetti, da farvi vedere. Vedrete che sostanzialmente, anche se magari la strumentazione per certi tipi di progettazione è quella tipica di un business plan tradizionale, però insomma entriamo sempre appunto in particolarismi che sono decisivi. Io posso avere delle esigenze di natura produttiva, cioè ho una committenza, cioè qualcuno mi chiede di fare una cosa precisa, quindi il progetto nasce da quello. Qui adesso ne parliamo, il tema di quanto la committenza sia precisa nel dirti quello che vuole. Per esempio, io in tutte le cose che ho fatto per le amministrazioni pubbliche non ho mai trovato un interlocutore che avesse chiaro che cosa volesse. Cioè era sempre molto... cioè girava intorno alle cose. Oppure non aveva chiare le cose neppure rispetto a esigenze molto precise. Allora guardate un esempio. Io sono stato uno dei progettisti dell'Auditorium Parco della Musica di Roma con lo studio piano. Cioè io mi sono occupato insieme ad altri della parte gestionale. Allora non so se sapete la vicenda dell'Auditorium, l'Auditorium lo conoscete? Avete mai sentito parlare? L'Auditorium sono i tre scarabbei che stanno al quartiere Flaminio, la cave a fuori, il giardino, i pensili sopra, vabbè. Allora, quel auditorium nasce in qualche modo per risarcire la città di una cosa accaduta negli anni 30 quando c'era un grande auditorium che si chiamava Augusteo, che era un auditorium dove aveva sede Santa Cecilia, che è la grande orchestra del 1500, mille posti, un auditorium di quelli a bomboniera tondo dove addirittura c'erano dei numeri di arte varia, per esempio i Rodei, c'erano le compagnie di Rodeo che venivano dagli Stati Uniti e si esibivano in questo auditorium tolte le sedi. Che succede? Che Mussolini si mette in testa che sotto l'auditorium c'erano dei resti romani importantissimi. Quindi l'ha fatta abbattere. Naturalmente sotto non c'era niente, l'idea era quella di ricostruirlo, naturalmente poi è scoppiata la guerra e non hanno ricostruito nulla. Per cui nel dopoguerra è cominciato questo eterno dibattito. Facciamo l'auditorium, facciamo questo. Non si è arrivati a nulla fino agli anni 80, in cui alla fine si sono messi d'accordo dove costruirlo e hanno trovato quest'area. A quel punto hanno fatto la gara. Ora, voi pensate che naturalmente sono modificate le esigenze di consumo culturale dagli anni 30 agli anni 80 agli 90, ma tu dai l'incarico a un architetto del prestigio di Renzo Piano di progettare un auditorium con tre sale solo per la musica sinfonica. Allora, le tre sale sono 2.800 posti, 1.200 posti e 700 posti, più una cava esterna da 3.000 posti. Allora, le tre sale possono, chiuse, funzionare contemporaneamente. Fate il conto dei posti e moltiplicatelo per il numero dei giorni, cioè 365 giorni l'anno. Ma voi pensate che a Roma ci sia tutto questo pubblico per concerti di musica da camera e musica sinfonica? Non è possibile. Infatti, come sta in piedi il sistema? Con una varietà di offerta, sia musicale che spettacolare. Ma questo cosa ha comportato? Che nel corso degli anni si è dovuti intervenire sul progetto per rendere le sale in grado di poter suonare anche, per esempio, una band amplificata. Quando invece era stato progettato per eseguire concetti solo in acustica. Allora, è chiaro che a nessuna Renzo Piano gli ha detto fammi un luogo che sia duttile. Per esempio, fammi un luogo dove sia possibile appendere un ring con le luci. fammi un luogo dove non necessariamente una parte dei posti ce l'ho sul retro del palco. Perché? Perché la musica sinfonica permette anche di mettere posti dietro, ma se faccio un altro tipo di show, quei posti dietro non li posso vendere. Ecco, allora il tema della committenza è un tema interessante. Uno dovrebbe comunque mettere legato a una sedia il committente e dirgli dimmi che vuoi. Perché in genere il committente vuole che sia tu a dirgli che cosa vuole lui. Quindi è come se fosse una sorta di sottotitolo che devi continuamente fare. Io posso avere esigenze di programmazione di spazi, per esempio ho un contenitore come questo e i progetti servono ad alimentare un cartellone, un programma. Posso avere la possibilità di progetti che sfruttano opportunità. passa un certo evento, un certo artista, un certo personaggio e quindi voglio organizzare un incontro, un incrocio, un convegno, un concerto, uno spettacolo, una mostra, una tappa di una mostra e quindi il progetto si associa a qualcosa che posso eventualmente cogliere. Infine posso avere esigenze legate a soggetti come le aziende. Cioè un'azienda che vuole creare un progetto di visibilità e quindi vuole in qualche modo utilizzare un'attività, un'azione culturale. Oggi siamo addirittura ragazzi al paradosso che le aziende che stanno abbandonando il concetto della sponsorship si producono le cose loro. Guardate nel Contemporanea, per esempio, oppure Unicredit Arte quando c'era. Cioè sono loro direttamente che diventano i committenti diciamo degli artisti e gestiscono tutto il processo. Quindi non passano più attraverso i soggetti terzi di intermediazione. E poi potremmo avere progetti che ci permettono di partecipare al network. Per esempio tutti i progetti europei possono diciamo nascere nel momento in cui si creano delle cordate, quindi delle forme di collaborazione. Allora, è evidente che se io ho chiaro l'esigenza di origine sono già a buon punto per definire qual è il traguardo. Perché se il traguardo è soddisfare quell'esigenza ho già capito un pezzo del percorso che devo fare e quindi la strada che devo prendere. A questo punto io posso avere tutta una serie di elementi che butto sul tavolo. Per esempio, posso avere un'idea di che cosa voglio affrontare. Voglio lavorare su un determinato argomento perché mi interessa, perché lo voglio portare avanti, perché penso che sia attuale, perché ho scoperto una cosa, perché è un'esigenza sentita dalle persone. Quindi diciamo che posso avere tutta una serie di materiale spurio, sparso, indizi, congetture, presunzioni, ricerche che ho fatto, cioè materiale che butto lì, che metto lì. Possono esserci delle circostanze, cioè delle cose, degli accadimenti che il progetto può mettere in evidenza, oppure posso avere delle segnalazioni che emergono dal contesto e su cui vale la pena, per esempio, delle priorità, delle emergenze. Emergenze non in senso di urgenza, emergenze in senso di qualcosa che traspare. Questo potrebbe essere, naturalmente, come dire, del buon materiale di partenza. Dobbiamo solo stare attento a non portare avanti ipotesi fatali. Noi le chiamiamo assunti killer, cioè delle circostanze intorno a cui variamo, giriamo intorno. Stamattina vi dicevo, state attenti a non farvi sedurre, a non farvi... Guardate, io la chiamo anche... Ci sono, nella gestione dei progetti, delle cose legate agli studenti. Per esempio c'è la sindrome dello studente, che riguarda i tempi, che è la sindrome per cui se io ho una scadenza da qui a X mesi, tendo a occupare tutto il tempo che c'è fino a quella scadenza. Cioè non è che pianifico... Ecco, tendenzialmente la tendenza è quella. Invece c'è un altro aspetto che è quello, come dire, che si collega, che si in qualche modo manifesta rispetto a essere più che autoreferenziali, completamente avviluppati da quello che sto facendo. Lo vediamo sulle tesi, le tesi di laurea. La tesi di laurea, io pretendo dai miei studenti, che loro la finiscono entro una certa data e poi la mettono via. E stanno 15 giorni, 10 giorni, una settimana, senza nemmeno aprirla. perché nel momento in cui la aprano avranno uno shock, perché non gli piacerà nulla e vorranno rimettere in discussione tutto, ma avranno modo di leggere le contraddizioni, le cose che non funzionano fino ai refusi, che inevitabilmente non vedi finché ci stai lavorando sopra. Quindi gli assunti, gli elementi di partenza sono importanti. Dopodiché noi abbiamo bisogno operativamente di cercare di tracciare qualcosa. Allora, questo modo di tracciare io lo chiamo schizzo di progetto. Che cos'è uno schizzo di progetto? Allora, lo schizzo che cos'è? Perché ha una grossa capacità visuale e il disegno che disegna in maniera molto rapida, stilizzata, le cose essenziali che vuole mettere in atto. L'auditorio di Renzo Piano non è che nasce da un disegno molto circostanziato, nasce da uno schizzo. Così come la struttura di Nuova Caledonia, così come la biblioteca, la library che sta negli Stati Uniti, cioè l'aeroporto di Osaka. Cioè ci sono una serie di cose che lui realizza fissando sostanzialmente l'idea che ha dell'oggetto in maniera assolutamente proprio sintetica. Allora, noi abbiamo bisogno di schizzare la nostra idea-progetto, cioè quello che noi pensiamo che debba essere un po' il cuore. Non abbiamo qui nessuna forma come dire di convenzione da usare. Possono essere pochi appunti, possono essere poche immagini raccontate, però ci permette in qualche maniera di non navigare, di non far navigare nella nostra testa il pensiero che abbiamo e di cominciare a fissarlo, averlo lì, averlo sott'occhio. Vedete? Condensa una prima visione, quindi è una rappresentazione dell'idea attorno a cui vogliamo lavorare. Come vi dicevo prima, l'importante è capire se c'è una committenza precisa e quindi noi dobbiamo capire che la committenza orce a farci capire che cosa dobbiamo fare ci deve dare poi una serie di supporti. ci deve fornire un po' di orientamento, ci deve aiutare dove ci sono i problemi, forse ci deve dare delle risorse se la committenza è a titolo oneroso, garantire un buon clima, permetterci di poter costruire insieme a lei un percorso di consensus building, cioè di costruzione, di accreditamento del progetto verso i soggetti terzi. Quindi, insomma, deve in qualche maniera essere non un riferimento che abdica e lascia a noi sostanzialmente come dire, di risolvere la patata bollente, ma un compagno di viaggio. E quindi il tema della committenza è un tema sicuramente estremamente delicato a cui si associa un altro argomento che è lo statuto di progetto. noi dobbiamo capire esattamente come conduciamo il progetto, soprattutto se il progetto coinvolge altri soggetti. Se noi lavoriamo in partenariato deve essere chiaro per esempio chi fa che cosa, quali sono i termini delle responsabilità che vengono in qualche modo stabilite, quali sono le modalità, per esempio nella progettazione partecipata, quali sono le regole che permettono praticamente la partecipazione dei vari interlocutori, qual è il feedback, qual è la distillazione di quello che emerge, come sarà gestita, è un discorso anche di trasparenza in questo caso in certe forme di coprogettazione, però anche per esempio la direzione che imprimiamo al lavoro progettuale, cioè siamo per esempio una struttura, un'associazione come dire che decide su base professionale, quindi chi ha certi incarichi ha libertà di imporre la propria idea o ci sono delle modalità di concertazione sulle strade che intraprendiamo. Allora definire sostanzialmente come funzionerà il progetto che non significa fare niente di burocratico, significa mettersi d'accordo, può bastare anche una stretta di mano o posso anche stabilire delle regole scritte. L'importante è che io nel cammino progettuale soprattutto nei momenti più salienti non debba stare a discutere esattamente chi decide cosa o come affrontiamo un certo problema. A questo punto noi abbiamo la seconda gamba, cioè dobbiamo capire esattamente questa parte più strategica e cominciamo un po' da queste cose. Allora intanto l'abbiamo detto ripetiamo dobbiamo capire qual è un po' lo scopo il perché probabilmente se abbiamo chiara l'esigenza diciamo che le due cose saranno abbastanza come si dice speculari. Dopodiché sarebbe importante io cerco di definire prefigurare il mio progetto di raffigurarmelo in testa c'è David Sherman che parla di immaginazione dinamica quindi avere sostanzialmente una capacità veramente di pensare esattamente a quello a cui voglio arrivare a come me lo immagino anche che funzionerà proprio immaginazione come dire che permette anche di capire esattamente le cose che accadranno come me le figuro. Devo fare una valutazione dell'ambiente ma adesso ne parliamo rilevare i portatori di interessi capire quali sono i target del progetto cioè a chi mi sto diciamo indirizzando e poi capire soprattutto una serie di cose che sono gli obiettivi che avrò nel corso del diciamo del progetto e per effetto del progetto se ci sono dei risultati attesi precisi se ci sono dei benefici che io voglio far coincidere con questi risultati attesi cioè qualcosa di cui qualcuno si avvale fosse anche la mia organizzazione o chi sta portando avanti il progetto allora vedete questo è uno sforzo sostanzialmente come dire di cercare di non lasciare le cose al caso di lavorare su tutti questi aspetti in maniera estremamente puntuale c'è un'altra parola che trovate lì scritta che sono gli impatti allora su questo c'è un ragionamento fondamentale da fare è che noi siamo portati a immaginare un progetto culturale come qualcosa che a un certo punto si conclude e può o meno aver raggiunto gli obiettivi che si è dato e quindi quello è considerato sufficiente ma certi progetti hanno degli effetti che si producono oltre nel tempo quelli che si chiamano outcome cioè esiti allora questi esiti non è che si verificano per grazia divina si verificano in conseguenza di alcune cose che noi abbiamo messo in moto abbiamo diciamo attivato può darsi che non si verifichino oppure può darsi che si verificano degli effetti negativi ma noi dobbiamo avere consapevolezza di che cosa è in grado di generare oltre la durata del progetto quello che stiamo facendo per esempio negli eventi questa diciamo questo argomento è fortissimo l'avete visto nelle capitali della cultura dove si parla di legacy di eredità allora è chiaro che l'eredità dei mega eventi come la capitale della cultura come le olimpiadi come l'espo è un'eredità soprattutto fortissimamente tangibile cioè rimangono delle strutture ma se noi andiamo a vedere sulla capitale europea Liverpool 2008 gli impatti di Liverpool sono prevalentemente impatti intangibili risorse di fiducia ottimismo cioè sono degli impatti sociali fortissimi allora noi dobbiamo domandarci se il nostro progetto piccolo grande è in grado di sedimentare qualcosa se questo qualcosa siamo in grado di rilevarlo e di metterlo nella progettazione se siamo in grado di monitorarlo o andarlo a rilevare se siamo in grado se c'è di poterlo vendere come vendiamo il progetto ok questi noi richiamiamo impatti allora vediamo qualche cosa che ci può aiutare ecco vediamo cominciamo dall'analisi del contesto allora ricordatevi l'abbiamo detto oggi che il contesto intanto va visto come quello interno al progetto e esterno che è quello più importante interno al progetto dipende dal chi realizza l'iniziativa se siete un'associazione o siete un gruppo informale o lavorate per conto di un ente tutti i meccanismi le procedure i rapporti le dinamiche formali e informali sono il contesto con cui vi confrontate esempio lavorate per un comune lavorate per assessorato alla cultura ma gli altri uffici del comune sono pezzi di contesto interno con cui fare diciamo attenzione o comunque con cui costruire dei collegamenti la nostra associazione le dinamiche relazionali interne le cosiddette cose non dette i protagonismi le relazioni trasversali estralavorative cioè tutta quella serie di cose interpersonali che comunque entrano in gioco nel portare avanti determinate lavorazioni determinate attività naturalmente contano anche le procedure per esempio se io lavoro per una struttura che ha delle procedure pensate alla procedura di firma cioè qualcuno a cui io devo sottoporre sostanzialmente una firma un'approvazione se sono un'associazione è tutto più veloce non ci sono molte procedure burocratizzate ma se sono in una struttura più burocratica le procedure invece diventano importanti l'impegno di spesa la possibilità di occupare o no pensate devo avere un collaboratore lavoro per una struttura in cui prendere un collaboratore è un problema da un punto di vista formale o contrattuale queste cose vanno un attimino come dire avvisate avvertite considerate a monte invece sul macroambiente noi ragazzi abbiamo da tenere presenti due mondi il primo mondo è il macroambiente che riguarda come dire tutta una serie di circostanze che non sono direttamente imputabili alla mia vita quotidiana proprio alla mia c'è quella di Tiziana di Francesco di Federica eccetera cioè non è direttamente imputabile a quello che faccio ma può avere indirettamente invece un riflesso faccio un esempio il Job Act Job Act in discussione al Parlamento cambieranno alcuni meccanismi contrattuali che riguardano sostanzialmente le politiche del lavoro possono avere dei riflessi nei progetti culturali può darsi di sì se aumenta l'IVA perché la clausola di salvaguardia della legge di stabilità prevede che qualora non si ottengano gli obiettivi con i risparmi di spesa nel 2016 c'è uno scatto dell'IVA di due punti percentuali significa che i miei acquisti dovranno soprattutto se sono un'associazione che non ha partita IVA comporteranno un aumento dei costi sicuramente comporteranno un aumento dei prezzi se c'è una partita IVA se per esempio c'è un meccanismo come dire ecco per esempio noi valutiamo questi fenomeni sulla base diciamo di quattro indicatori che sono i fenomeni politici quelli sociali quelli economici e quelli tecnologici fare un tipo di rilevazione di questo modo si chiama pest analysis allora io non è che per i progetti che magari hanno una portata più ridotta mi metto a fare una pest analysis molto stringente però posso sicuramente cercare di fare una piccola panoramica una piccola riflessione di quali sono le situazioni generali che possono avere una qualche forma di link con quello che sto facendo l'importante però è che io a monte mantenga un'attenzione un'informazione su tutte queste cose per esempio che si è informato faccio delle domande scabrose lo sapete cosa prevede art bonus sapete cos'è art bonus no allora ecco se volete fare i progettisti culturali dovete essere quantomeno informati sui provvedimenti che vengono approvati anche perché non ne abbiamo da decenni ne sono passati tre nell'arco di pochi mesi forse è importante stare attenti allora compito a casa andate a cercarvi il decreto valore cultura che è stato realizzato dal governo Letta guardatevi il decreto art bonus che introduce il principio della deducibilità fiscale per i privati che investono nella cultura quindi direi che è una cosa importante fino al 65% di quello che hanno messo e poi guardate questi sono già leggi dello Stato adesso per essere operative devono passare i decreti attuativi tra l'altro scusate art bonus istituisce due cose importanti sul lavoro che avete fatto fino adesso istituisce la capitale italiana della cultura dal 2015 al 2020 scusate ma lo sapete che Lecce è capitale italiana della cultura del 2015 insieme a Perugia naturalmente non è una roba ufficiale è per adesso un pronunciamento in conferenza unificata ma è stanno cercando i soldi allora la capitale italiana della cultura fa parte di Arbonus prevede un finanziamento di un milione euro l'anno sui fondi cipe escluso il 2019 perché c'è la capitale europea allora questo è un fatto importante Italia 2019 sapete che cos'è? Italia 2019 è la rete di tutte le città che sono candidate a capitale che sta dialogando Lecce è meno presente però fa parte di questo meccanismo allora conoscere questi provvedimenti è importante perché fanno parte di questa zona qui per esempio lo sapete che tutto lo spettacolo dal vivo è stato rimesso in discussione col decreto ministeriale del 19 agosto cioè spariscono i teatri stabili sparisce per coreglia lo status di teatro stabile di innovazione diventerà molto probabilmente se riusciamo a far passare il concetto dei posti centro di produzione entra in gioco la triennalità allora ragazzi le regole del gioco le dovete conoscere se no come fate a fare un progetto capire questo immagino che lo conoscerete ma comunque è oggetto di grandi discussioni il codice sui beni culturali del 94 revisionato nel 2004 ecco queste cose bisogna saperle maneggiare bene e bisogna monitorare le evoluzioni i cambiamenti per esempio c'è stata una grandissima battaglia fatta dall'Arci per la CIA non ce l'hanno fatta perché è caduto diciamo c'è stato il cambio di legislatura però lì era una battaglia importantissima per capire per esempio una cosa i progetti culturali non hanno protezione giuridica cioè significa che i vostri se voi scrivete un romanzo e lo volete tutelare potete andare alla CIA e depositarlo all'Olaf al deposito opere inedite cosa fa la CIA si prende due copie vi chiede 200 euro mi ricordo quant'è voi firmate ogni pagina l'opera sta in un archivio per 10 anni se qualcuno un domani pubblica una cosa che riconoscete che è la vostra lo portate davanti al giudice dimostrando la data certa in cui avete consegnato ma se voi fate un progetto culturale circostanziato il progetto non c'è nessuna forma di protezione per cui se lo fate girare e qualcuno ve lo sottrae e lo fa non avete nessuna capacità di poter dimostrare la paternità di questa cosa allora tutti questi argomenti sono oggetto di un dibattito forte questo dibattito poi origina sostanzialmente delle come dire circostanze dei fenomeni delle decisioni eccetera dei provvedimenti che in qualche maniera come dire hanno poi una ricaduta sul per esempio tutto tutto il discorso guardate c'è un altro libro che dovreste leggervi è un libro di Giampaolo Fabris Giampaolo Fabris è grande sociologo diciamo dei consumi è un libro del 2008 si chiama Societing vi dice sostanzialmente che il marketing è morto e che oggi questa nuova disciplina si chiama Societing e vi dice sostanzialmente di come sono cambiati i comportamenti al consumo per esempio introduce un concetto interessante che non è originale ma che però da lui è sostenuto in maniera decisamente esemplare vi dice che oggi i consumatori ma voi stessi me stesso non siamo più schiavi e proni alle marche vogliamo essere i protagonisti delle scelte che facciamo siamo dei consumatori maggiormente responsabili e decisamente volubili e infatti come richiama lui consumatori anzi dice sostanzialmente che il consumatore può avere il re scritto grosso oppure che nell'uso nel rapporto con la rete oggi il consumatore è anche consumautore in molti casi allora voi capite che questo cambia completamente i consumi gli stili di vita gli elementi valoriali no? l'abbiamo visto anche per come è diventato importante e significativo tutta una serie di cose per esempio forse per voi insomma non avrete notato però per me è stata abbastanza clamoroso come negli ultimi dieci anni forse quindici non lo so la cura del corpo sia diventato un elemento fortissimo cioè la quantità di centri estetici di luoghi cioè una volta la cura del corpo era sostanzialmente il parrucchiere da donna il barbiere da uomo e il barbiere era un luogo sociale fino a un certo punto il parrucchiere era già un'altra cosa una roba diversa oggi i barbieri sono spariti perché sostanzialmente chi ti fa i capelli lo fa per uomo e per donna e poi adesso c'è anche la concorrenza cinese per cui c'è tutta questa cosa qui ma sono cresciute invece tutte queste cose che vanno dal centro estetico alla spa e guardate questo cambia perché questo significa che c'è un'economia dietro quella cosa ma c'è anche una diversa concezione di sé se io investo dei denari per fare queste cose dalla lampada solare al massaggio a tutte queste cose che è indicativo di un diverso livello di esperienza personale su tutta una serie di campi allora noi queste cose dobbiamo averne consapevolezza dobbiamo averne un'idea e avere la nostra idea la nostra visione su questi aspetti cioè non essere non vi fate come dire trasportare dal flusso delle cose stamattina è stato dato un honoris causa a Bauman ci hanno provato ci hanno provato benissimo allora in uno dei suoi bellissimi libri lui dice che noi possiamo scegliere se stare su un fiume su un tronco e farci trasportare la corrente o se avere una pagaia e dare una direzione a quel tronco allora io credo che valga più la seconda cioè essere noi protagonisti delle scelte che facciamo allora nella progettazione culturale noi diventiamo protagonisti di processi progettuali ma dobbiamo essere in qualche modo consapevoli di tutto quello che questo comporta e significa tutto quello che sta avvenendo intorno a noi altrimenti succede come diceva Fabris come il marinaio di Cristoforo Colombo cosa grida il marinaio di Cristoforo Colombo quando avete la costa degli Stati Uniti degli Stati Uniti ma dell'America cioè come? le Indie perché era quello che si aspettava di trovare allora noi rischiamo di essere prigionieri di punti cardinali che invece non esistono più semplicemente perché la velocità con cui le cose stanno cambiando è iperbolica se prima per i cambiamenti ci volevano decenni secoli adesso i cambiamenti sono assolutamente proprio rapidissimi turbolenti e questo è perché e stamattina ve lo dicevo siamo intessuti imbevuti imbrigliati di complessità che riguarda anche la nostra vita guardate c'è un vecchio disposto che riguarda la complessità nato in meteorologia che dice che un battito d'ari di una farfalla nel Texas può provocare un tornato dall'altra parte del mondo sarà esagerato sarà eccessivo però la chiusura di una banca negli Stati Uniti nel 2008 ha provocato una rivoluzione in tutto il mondo occidentale quindi siamo decisamente eccessivamente e talmente interconnessi da vedere le cose e da leggere le cose più in chiave sistemica quindi non siate eccessivamente contemplativi più di quanto non sia necessario bisogna avere una attenzione forte ma stai in castigo? ah ok va bene no no pensavo che era un fioretto va bene allora quindi questo è importante naturalmente ragazzi poi valgono anche tutte le cose che sono anche un po' più curiose da conoscere no perché ci sono argomenti certamente aridi per esempio ragazzi sull'economia capire tutto quello che stanno passando le banche che ovviamente ci hanno torto marcio ma comunque stanno passando tutto il tema no degli stress test Basilea 2 3 eccetera noi possiamo capire la come dire addossare una certa dose di cattiveria alle banche però dobbiamo anche inserirla nel fatto che loro comunque sono improntate e votate a tutta una serie di procedure ferre che gli derivano dall'unione allora su questo anche assumere in qualche modo non degli attecitamenti pregiudiziali ma un pochino più obiettivi sull'innovazione tecnologica insomma ve lo raccontavo stamattina ma è un continuo noi lo vediamo sostanzialmente su tutto il versante quindi anche lì non arrivare tardi guardate io non ho cento anni però gli anni ce li ho quando ho cominciato a lavorare in teatro sapete qual era diciamo l'occupazione che facevo il pomeriggio prima di un debutto passavo tutto il pomeriggio a telefonare alle redazioni dei giornali per dettare il comunicato stampa agli stenografi perché in quegli anni non esistevano i computer non esistevano i fax la scrittura era su una macchina da scrivere o meccanica o serie ricco elettrica quando dovevi mandare un messaggio urgente o andavi alla posta e facevi un telegramma oppure usavi il telex che avevano soltanto gli uffici pubblici il mio primo computer era grosso come questo tavolino si chiamava bcs era il 1985 funzionava con due dischetti una era la memoria fissa e una la memoria diciamo quella cosiddetta mobile il mio primo personal computer è arrivato sostanzialmente intorno agli anni 90 ed era un Olivetti e il fax era carta chimica quella che si usa per gli scontrini non è che vi sto parlando di 5 milioni di anni fa vi sto parlando sostanzialmente di 20 anni fa grosso modo 30 anni fa ecco adesso quando parli con la redazione di un giornale se non gli mandi una foto in alta definizione una roba scannerizzata il file già pre-stampato non vi si fila nessuno gli stenografi sono spariti non esistono più i corsi di stenografia solo nel dibattito parlamentare esiste la figura dell'assistente parlamentare che usa quella strana macchina per i resoconti punto stiamo parlando di 30 anni noi stiamo parlando di cifre quindi noi dobbiamo stare attenti dobbiamo considerare che certe cose sono comunque parte di questa evoluzione io farò un volo con sto cavo vedrete voi invece noi dobbiamo essere un pochino più attenti al discorso del microambiente cioè il nostro ambito il nostro progetto si inserisce in che territorio ecco iniziamo territorio che non bisognava nominare nell'intervista il territorio l'ambito territoriale che forze ci sono su quest'ambito territoriale le forze politiche le istituzioni gli atteggiamenti i decisori politici decisori politici che contano gli atteggiamenti gli aspetti normativi le aziende le ONG il terzo settore l'attività sportiva e poi ancora il reddito medio l'occupazione la scolarizzazione quali sono tutte quelle cose che prima abbiamo considerato a livello macro invece come sono declinate vissute qui quali sono i player più importanti noi da questo punto di vista qui dobbiamo avere una conoscenza puntuale per esempio fenomeni che caratterizzano il comportamento di alcuni soggetti cioè un'azienda che a un certo punto si fonde un'azienda che fa un compleanno un anniversario aziendale un'azienda che fa un anniversario aziendale è vulnerabile dico simpaticamente gli posso chiedere dei soldi posso legarci delle cose se c'è interesse allora anche su questo ci sono delle buone lezioni che arrivano dall'intelligence cioè vedere i fatti i fenomeni per questo oggi vi parlavo di informazioni nelle loro dinamiche processuali evolutive come si giustifica o si spiegano alcune cose qual è il retropensiero questo dall'altro è anche divertente è un atteggiamento interessante e come le assumete queste informazioni parlando con le persone cercando di nasare di sentire più o meno il mood gli umori andando per esempio qualcuno di voi è andato a vedere qual è la situazione del censimento del 2011 a Lecce che trend demografici ci sono in questa città allora questa cosa però significa per esempio per un progettista lavorare con i numeri lavorare con le statistiche saperle utilizzare saperle piegare ai propri interessi questo parlo proprio come approccio come atteggiamento quindi su questa cosa qui naturalmente ecco è importante dopo di che ci sono queste altre due voci e cioè qual è la diciamo la configurazione organizzativa gli spazi i luoghi i contenitori gli spazi i potenziali le aree e poi ad esempio ragazzi una cosa tanto per essere concreti i fornitori se io devo fare e mi occupo di tutta una serie di cose le forniture che mi servono ce l'ho in città? e se non ce l'ho quali possono essere supplitive? o se no dove devo andarmene a prendere? per esempio io mi sono occupato di diversi concerti rock ci sono alcuni artisti che chiedono esplicitamente alcune diciamo dotazioni sull'audio queste dotazioni si trovano soltanto in tre fornitori due o tre fornitori in tutta Italia quindi gli impianti che girano non sono tantissimi allora avere su quello che mi serve chiaro i fornitori i servizi per esempio tutta la logistica tutto quello che in qualche modo vi può servire parlavamo di alberghi per esempio tutto il sistema diciamo dell'accoglienza anche questo è una cosa importante da conoscere l'ultima cosa sono ovviamente tutte le iniziative culturali altre questo magari siete più più ferrati però per esempio ai miei studenti a Milano come esercizio io e Paolo dalla Sega facciamo fare la misurazione della temperatura della città cioè la chiamiamo temperatura febbrile della città cioè assegniamo a tutta una gamma di eventi cioè l'evento civile la fiera l'evento culturale eccetera una possibile temperatura dai 38 ai 42 e dopo di che chiediamo che questa temperatura venga associata al calendario degli eventi in questo modo posso ottenere un grafico dove posso capire in quali momenti dell'anno la città ha un certo stato febbrile sugli eventi questo per esempio è fondamentale perché serve a evitare una cosa complicatissima per i progetti gli eventi eccetera la sovrapposizione delle date quindi la gestione dei periodi altra cosa che si collega a questo ragazzi sono le dinamiche settoriali avete deciso di lavorare nel mondo dei beni culturali benissimo quali sono le linee di funzionamento di quel settore le modalità per esempio ragazzi le prassi le consuetudini cioè quelle regole non scritte ma che determinano il funzionamento di un settore lo sapete che nel teatro italiano ancora oggi nei contratti di scrittura di un attore in fondo si dice per tutto quello non previsto nel presente contratto oltre al contratto collettivo nazionale valgono le consuetudini in uso quindi vuol dire che io sto formalizzando in un rapporto contrattuale suscettibile anche di un contenzioso le consuetudini in uso nel mondo della prosa se fossimo perché noi abbiamo il civil law Gloria se fossimo in una situazione da common law sarebbe molto pericoloso un contenzioso su una consuetudine perché un bravo avvocato potrebbe portarmi una sentenza del 1300 del 1400 a me sfavorevole quindi ergo cercate da questo punto di vista di smaliziarvi cioè di avere una conoscenza intanzitutto ragazzi il progettista è sostanzialmente un curioso un curiosone è uno che non si accontenta della prima risposta che va a vedere dietro che cosa c'è e che conosce del suo mondo soprattutto le dinamiche principali dopodiché oltre alle dinamiche c'è il tema dell'arena competitiva con chi compete la mia attività per esempio compete con quelli che fanno la stessa cosa che faccio io forse può darsi dipende dalla loro forza compete con quelli che possono fare qualcosa di alternativo a quello che faccio io certo sicuramente compete con qualcuno che può sostituirsi a quello che faccio io sicuro ve lo dimostro con un esempio tanti anni fa ma tanti anni fa vengo invitato insieme ad altri colleghi a un seminario alla LUIS a Roma dove parliamo di vantaggio competitivo e noi parlavamo eravamo cinque del vantaggio competitivo delle aziende che lavoravano sull'uasire che lavoravano sulla cultura sul design eccetera chi erano gli utenti i top manager di aziende italiane di vari settori l'algida piuttosto che autostrade eccetera a un certo punto mentre intervengo io e spiegavo i temi del vantaggio competitivo nel mondo dello spettacolo si alza infastidito uno che vedo che è proprio infastidito fa la valigia e questo a un certo punto io dico scusi ma c'è qualche cosa che non va è molto antipatico una scena di questo tipo e lui dice lei mi sta facendo perdere tempo dico scusi mi spieghi io sono il direttore commerciale dell'Alitalia molti anni fa io non capisco questo tema del vantaggio competitivo cioè in fondo noi Alitalia sulla tratta Roma-Milano siamo in regime di monopolio sulle tratte europee abbiamo una quota di mercato altissima io non vedo proprio qual è il problema perché dobbiamo insomma misurarci con queste considerazioni quindi prendere la valigia e se ne va dopo sei mesi le ferrovie dello Stato introducono l'allora pendolino che ti portava da Roma a Milano in cinque ore e mezzo partivi da Roma Termini arrivavi a Milano Centrale in questa diciamo circostanza in questa situazione potevi camminare per il treno leggere un giornale ti davano perfino un pezzo di carne che era dell'Enichem ma insomma diciamo che potevi assolutamente come dire ingannare il tempo in aereo il volo era come oggi di un'ora ma devi arrivare a Roma Fiumicino devi fare lo spogliarello davanti a Metal Detector arrivare al tuo gate aspettare i soliti ritardi in partenza imbarcarti volare arrivare a Linate recuperare il bagaglio se non te l'hanno mandato a Singapore e poi arrivare al centro di Milano con la mitica 73 tempo tre ore e mezza allora questo signore non aveva capito che certo che se lui ha un contratto di monopolio su una tratta che poi dopo è scaduto perché è entrato Air One eccetera tu non hai problemi di vantaggio competitivo ce l'hai in termini diciamo di distonia del mercato ma dal punto di vista dei prodotti alternativi dei servizi alternativi le ferrovie ti stanno erodendo un pezzo di quel mercato infatti oggi qual è il discorso che è più vantaggioso da Roma a Milano prendere il treno che andare in aeroporto quando è che diventa vantaggioso l'aereo se io arrivo da un'altra tratta e faccio un transito per Fiumicino allora non è che sto a ritornare in centro ma se adesso mettono l'alta velocità fino all'aeroporto di Leonardo da Vinci io non lo so sulla tratta Roma a Milano quello che è quello che succede e adesso col nuovo con il nuovo ETR 1000 arrivo da Roma a Milano soprattutto quando sarà fatto il sottopasso a Firenze in due ore e mezza cioè ci impiego più io a fare 40 km da Roma fino a dove abito che arrivare a Milano allora questo per dirvi che noi dobbiamo stare attenti poi soprattutto quando avremo chiapito come si dice i target a come dire la validità della nostra offerta a chi si indirizza a cosa succede contestualmente intorno a noi a quali sono i nostri competitor per esempio chi di voi ha un'associazione un'attività eccetera e sa che ci sono altri soggetti che fanno attività siete nelle mailing list di questi altri soggetti ricevete le loro informazioni vi fate un'idea della loro programmazione siete come dire avete cognizione di quali sono le loro strategie di come si muovono cioè la conoscenza dei concorrenti che è un'attività meno progettuale più sistemica deve essere messa in atto per poi collocare bene i nostri progetti nell'arena competitiva è chiaro fino adesso? ragazzi qualunque cosa non vi torni ditemelo invece stakeholder allora stakeholder si misurano per questi due aspetti interesse o potere detto anche influenza l'interesse quanto quello che state facendo è rilevante e significativo per lo stakeholder il potere come quello stakeholder quel soggetto può condizionare influenzare la vostra attività sotto vari aspetti per esempio un'autorità che vi deve concedere un permesso per esempio un soggetto che ha una posizione dominante nel mercato per esempio prende parecchi finanziamenti pubblici e quindi sottrae delle risorse naturalmente lecitamente ma comunque in ogni caso è dominante oppure chi riesce a fare un'attività di lobbying allora voi dovete necessariamente riuscire a mappare quelli che sono significativi col progetto perché è assolutamente determinante stabilire una relazione con loro è determinante fare in modo che gli interessi e le aspettative di questi soggetti convergano sul progetto e sapete qual è la fregatura il barbatrucco che molto spesso le aspettative tra stakeholder non sono le stesse e quindi voi avete una pluralità di situazioni da gestire su cui trovare voi la sintesi allora come faccio a mapparli posso fare un elenco oppure posso usare questa cosa che piace tanto a Bacchella che è la matrice potere interesse vedete quattro quadranti intersechiamo l'influenza con diciamo l'interesse nel quadrante quello rosso noi abbiamo diciamo inseriamo quegli stakeholder che hanno la capacità di come dire mostrare un grande interesse ma di essere determinanti in termini di potere di influenza di condizionamento e quindi sono stakeholder primari li dobbiamo gestire costantemente se uno stakeholder invece è sostanzialmente uno che può influenzare fortissimamente ma non gliene frega granché del progetto diciamo che li chiamiamo stakeholder secondari o anche strategici e dobbiamo con loro gestire necessariamente una relazione proficua se ho uno stakeholder che ha un forte interesse ma che alla fine non è che ci cambia tanto la vita non ci condiziona molto è uno stakeholder da aggiornare con cui avere una relazione semplicemente informativa invece posso monitorare chi si posiziona nel quadrante in cui interesse e potere hanno un livello piuttosto basso allora chi possono essere gli stakeholder tutti questi soggetti qua guardate comunità ospitante per esempio i residenti le organizzazioni aziendali e quelle no profit il mondo dei media gli soggetti turistici e poi posso avere i collaboratori per esempio ecco un dipendente un collaboratore perché è uno stakeholder qual è il suo interesse no per un dipendente qual è l'interesse no essere attribuito il suo interesse è quello no certo però è l'interesse tu devi focalizzare l'interesse non la causa-effetto capito l'interesse di un fornitore è lavorare no poi tu qual è invece il segreto è fare in modo che lui non solo corrisponda ma che sia alleato complice lo devi portare dalla tua parte questo è il segreto per riuscire in qualche modo a coinvolgere cosa serve per portare tutti questi soggetti dalla vostra parte l'ascolto la capacità di mediare di intercettare queste aspettative e farle convergere nel progetto e la visione del progetto da trasferire a tutti loro andiamo avanti questi sono invece gli impatti che possono essere diciamo derivati i famosi esiti per esempio diciamo che io ho un duplice risultante per gli impatti quelli che hanno a che fare sul territorio quindi direttamente su l'esistenza del territorio e anche se è collegato quello che impatta invece sulle persone sulla comunità ricordatevi che gli impatti possono essere immediati o possono essere invece perduranti cioè di lungo periodo possono essere reversibili o irreversibili possono essere misurabili o non misurabili e naturalmente possono essere positivi o negativi quelle sono tutte le tipologie di impatto che possiamo trovare per esempio quale potrebbe essere un impatto positivo economico di una cosa che organizziamo per esempio mettiamo in moto dei flussi canalizziamo pilotiamo dei flussi oppure l'immagine delle situazioni quelli sono impatti diciamo un po' più reputazionali cioè io per esempio costruisco una migliore reputazione a cascata produce quegli effetti esatto invece quale potrebbe essere un impatto sociale negativo che c'è confuso esatto perfetto esatto invece un impatto ambientale negativo esatto oppure l'inquinamento oppure tutte queste cose qua ecco questa roba qui noi dobbiamo averla diciamo presente perché perché non è che facciamo una cosa e poi finisce lì cioè che succede poi o che succede durante tenete presente una cosa siccome io come vi ho detto ripetutamente che voi tutte queste robe qui le dovete declinare interpretare in soluzioni quindi se io rilevo che c'è un determinato problema devo capire esattamente quale soluzione metterò di fronte a questo problema cioè se io ho una la percezione che tutto quello che sto mettendo produrrà un impatto per esempio ambientale molto forte è evidente che io devo fare due cose come dire disarmare quell'impatto se è negativo e trovare quindi delle risposte e comunicare che quelle risposte sono risposte che determinano sostanzialmente la mia assunzione di responsabilità rispetto al problema l'impatto psicologico è per esempio un impatto psicologico è quello che rimane che permane nella mente per esempio dei residenti rispetto a una cosa che fai nel eh eh sì lì c'è un sistema di misurazione degli impatti fortissimo perché loro lì hanno scelto la strada della contability cioè della rendicontazione no vi faccio un esempio più vicino a noi c'era un un festival che si svolgeva in Veneto cioè tra il Veneto e il Friuli di musica ehm sostanzialmente era musica regge esatto sapete come è andata no? eh che praticamente a un certo punto questa cosa è stata come dire combattuta come se fosse praticamente un eh? sì come se fosse no sostanzialmente la sintesi la traduzione proprio è è un luogo di drogati è una situazione dove girano stupefacenti per cui questa roba qui ha traslocato è andata in Spagna insomma non ho capito se si fa ancora ma insomma comunque ecco allora ecco cosa ha determinato questo? Ha determinato sostanzialmente due responsabilità la responsabilità degli organizzatori di non saper misurare l'impatto che si è prodotto di chiamiamola in questo caso di reputazione dell'evento non del e dall'altra parte però un problema che era legato sostanzialmente a come dire l'atteggiamento che hanno avuto le istituzioni adesso al netto di tutti i ragionamenti politici di chi c'era da quelle parti eccetera un altro impatto psicologico certe volte è stato anche quello che nel momento stesso in cui tu fai certe iniziative che lavorano molto sul coinvolgimento dei giovani eccetera ecco quello che dicevamo prima le risorse di fiducia cioè il fatto praticamente che una certa iniziativa venga considerata in qualche modo come un elemento forte della capacità del territorio di sapere dare le risposte in questo caso a istanze di un certo tipo confine con l'impatto sociale allora sì molto spesso l'impatto come dire psicologico è più legato cioè mentre l'impatto sociale lo si considera in termini prevalentemente di effetti che sono misurabili che possono essere in qualche modo per esempio oggetto di una valutazione soprattutto expost l'impatto psicologico è più qualcosa che emerge sostanzialmente come dire dal appunto dal mood dal sentimento che uno ha verso quell'iniziativa o quell'attività per esempio quando ecco l'impatto psicologico che ha avuto un evento come la notte bianca cioè l'idea sostanzialmente che ci fosse al netto di tutte le degenerazioni che poi ci sono state però quando è nato l'evento nel 2003 che era tra l'altro mutuato da un evento parigino si faceva in Francia con tutto che nel 2003 il primo numero zero della notte bianca romana fu funestato dal famoso blackout non so se ve lo ricordate si spensa tutta l'Italia però il mood era quello sostanzialmente il sentimento era quello sostanzialmente che la città potesse respirare culturalmente e poi in realtà c'erano molte attività anche di natura più chiamiamola di intrattenimento cioè i negozi aperti i concerti queste cose qua però fu sorprendente lo è stato poi dopo con altre come dire mutuazioni di quella cosa il fatto che musei assolutamente non visitati nell'arco dell'anno dai residenti a Roma fu clamoroso il museo borbonico che fu diciamo ebbe dei numeri che non ha mai visto in vita sua nella sua storia cioè fu quello praticamente che a un certo punto questa cosa era come se sdoganasse un certo tipo chiamiamolo di consumo culturale non tanto popolare ma sicuramente più democratico ecco questo fu in qualche modo ci sono degli studi molto interessanti sul tema della notte bianca non solo numerici sarebbe molto interessante non abbiamo il tempo parlare per esempio di che cosa ha significato alcune cose legate all'estate romana negli anni 70 per esempio il festival dei poeti a Castelporziano fu un festival dove ci furono personaggi come Allen Ginsberg e dove a un certo punto ci fu questo effetto liberatorio della gente che salì in palcoscenico insieme ai poeti sfogliandosi nuda questo fatto era naturalmente quasi un happening mettiamola così e storicizziamolo agli anni 70 e tutto quello che poteva significare ma io vi ricordo che negli anni 70 la gente non usciva perché a Roma era facile in qualche modo se c'era una manifestazione beccarsi una rivoltellata e comunque in ogni caso erano gli anni in cui nei quartieri c'erano i contrasti fortissimi a parte il terrorismo dello scontro politico tra destra e sinistra cioè a Roma a Genova a Genova c'erano le Brigade Rosse a Torino c'erano le Brigade Rosse cioè voglio dire erano anni durissimi e a un certo punto arrivò l'estate romana questo pazzo scatenato questo assessore di 30 anni che messo lì quando tutte le caselle degli assessorati venivano decise dai politici l'unica rimasta in bianco era quella dell'assessore della cultura il sindaco che era Argan grande storico d'arte ci mise questo giovane architetto un po' pazzarello un po' bit il quale fece una cosa semplicissima decise che la cultura si riportava nelle piazze e che quindi anche i luoghi culturali diventavano come dire delle cinghie di trasmissione per cui i grandi eventi il cinema a un certo punto clamorosa questa cosa lui andò dagli esercenti cinematografici che in quegli anni chiudevano a maggio e gli disse potete aprire le sale anche in estate per fare in modo che la gente che non va in vacanza eccetera possa fruire di un'offerta e quelli gli dissero costa troppo ci dai i soldi per aprire le sale e lui disse la riunione è finita qua cosa fece? inventò Massenzio cioè davanti al Colosseo davanti a Massenzio un bimbo biondissimo mise quattro schermi e voi potevate andare lì e venire arrivavano quelli che a Roma si chiamavano i coatti cioè la gente dalle borgate guardate ho visto un film qualche giorno fa dove c'erano quelli che arrivavano col cric della 128 per aprire le come dire inferiate e passare e andare a vedersi il film allora è chiaro che tutte queste cose come dire oggi noi le studiamo con una con un cruscotto con una considerazione che assolutamente ma è evidente che quel tipo di operazione di politica culturale ha prodotto degli impatti di natura sociale psicologica quelli che abitavano nel quartiere Cinecittà quando uscivano dal quartiere e andavano da queste parti dicevano io vado a Roma perché per loro stare nei quartieri di Cinecittà significava stare fuori Roma Roma era al centro quindi lui cosa ha fatto ha fatto una cosa che poi ve lo dico perché ha fatto i cagliaritani con Cagliari 2019 cioè hanno messo i margini al centro dell'azione culturale andiamo avanti obiettivi ricordatevi che ci sono obiettivi primari e ci sono poi sempre gli obiettivi nostri del progetto quelli che dicevamo stamattina rispettare il budget stare nei tempi eccetera invece ah ecco gli obiettivi per funzionare devono seguire questa regoletta devono essere smart cioè devono essere specifici devo avere la possibilità di poterli misurare naturalmente questo è più facile per un obiettivo quantitativo per uno qualitativo devo avere magari degli indicatori devono essere raggiungibili e realistici e poi devono avere un minimo di pianificazione ovviamente nel nostro caso potrebbe essere la durata del progetto invece poi vi faccio vedere una cosa importante invece è importantissima stabilire la portata del progetto cioè la dimensione e il bacino di utenza cioè io sto parlando di un progetto che riguarda solo il cortile di casa mia o sto parlando di un progetto che riguarda tutta la città ho idea di prendere acchiappare coptare target che arrivano anche dalle altri comuni della provincia oppure mi sto allargando e sto pensando a qualcosa che può avere un respiro nazionale se sto facendo un progetto cofinanziato a livello internazionale c'è anche un aspetto come dire che esce fuori dal territorio italiano allora tutte queste domande vi cambiano la vita perché è evidente che il progetto da questo punto di vista avrà una come dire una dimensione una compostezza e anche una tipo di attrazione mediatica completamente diversa quindi capire qual è il perimetro è assolutamente importante noi poi dobbiamo capire anche esattamente una serie di altre cose per esempio quali saranno le tappe fondamentali e quali saranno le come dire le attività le cose diciamo più significative che io devo portare al termine all'interno del progetto allora guardate questi sono già concetti del project management o management come si dice la pietra migliare sapete che cos'è avete presente le strade consolari le strade consolari avevano a un certo punto una pietra a terra che ti diceva a che punto eri arrivato allora nei progetti le pietre migliari sono come dire dei punti fondamentali del vissuto del percorso progettuale che vi fanno capire esattamente dove state naturalmente possono essere messe quando avete raggiunto un determinato obiettivo per esempio se io sto cercando la copertura finanziaria del progetto nel momento in cui la ottengo posso dire che lì ho messo una pietra migliare del percorso la conferenza stampa che da in là e che annuncia quello che si sta facendo è sicuramente una pietra migliare ecco altra cosa che vi devo dire state attenti a cercare di capire se ci sono degli elementi imprescindibili del progetto cioè se io sto pensando di fare una cosa torno a Elisabetta voglio un progetto che ruoti intorno a lei se Elisabetta mi dice manco per niente il progetto non esiste se sto pensando di fare un progetto intorno a un sito o un'opera e io non ho la disponibilità di quell'opera cioè il progetto non esiste se io sto pensando di fare una messa in scena di L'Istuardo di Soldati Stramischi e la Sony che ha i diritti non mi concede i diritti io quella roba lì non la posso fare allora attenzione ci sono dei progetti che hanno degli elementi cardine sostituibili ma ci sono dei progetti invece dove ci sono degli elementi must che non sono assolutamente intercambiabili quindi io devo capire quando è che il progetto sta tramontando perché non è che posso stressarlo se ottengo lo stesso effetto con una duplicazione sostituzione va bene ma se no è inutile che mi ostino a portarlo avanti a questo punto passo al concept cioè sviluppare i contenuti come li sviluppo i contenuti quello che vi dicevo stamattina tre approcci qualche volta posso anche mescolarli però insomma diciamo per adesso li consideriamo come tre approcci diciamo assolutamente diversi tra loro il primo approccio è quello analitico è quello in cui io faccio un'esplorazione diciamo delle cose delle tracce che mi permettono di arrivare a un contenuto è quello dove io do una risposta a un problema è quello dove io mi pongo un problema e cerco naturalmente di come dire interpretarlo con i contenuti del progetto oppure posso avere un approccio creativo puro quello che noi chiamiamo design di progetto quindi non ho necessità di scorporare suddividere analizzare scomporre niente prendo in considerazione quello che sto trattando nella sua accezione più sistemica d'insieme oppure posso avere un approccio narrativo cioè ti racconto una storia il mio progetto ti racconta una storia rappresenta una storia mette in evidenza una storia per esempio io posso avere prendiamo alcuni esempi di progetti un evento espositivo può essere un progetto costruito con un approccio narrativo un progetto didattico che valorizza un sito può essere invece per esempio qualcosa che considero da un punto di vista più analitico n progetti di varia natura possono essere costruiti con una grande chiamiamola libertà e quindi all'interno di un approccio assolutamente di design adesso ve ne faccio vedere uno in particolare anzi poi vediamo un video di un concerto proprio un frame piccolissimo e mi dite quell'evento secondo voi come può essere costruito cioè se riuscite a rintracciare come è stato costruito e come potrebbe essere alternativamente costruito voi dite ma come faccio su un concerto e poi vedete il concerto e vi rendete conto allora questa roba ve la risparmio ecco sull'approccio analitico è molto importante che io capisca però qual è il problema da affrontare c'ho un problema dato che è venuto per esempio dagli stakeholder da un committente potrebbe essere un buon punto di inizio oppure io mi sto interrogando quindi sto facendo del problem setting no se io ho un problema e cerco una soluzione sto risolvendo il problema ma potrei invece porlo un problema evidenziarlo farmi una domanda e intorno a quella domanda costruire tutte delle possibili strade vi faccio presente che nella progettazione europea esiste una diciamo metodologia che si chiama PCM che è una metodologia che utilizza strumenti come il quadrologico eccetera dove una delle diciamo fonti che alimentano diciamo il progetto si chiama albero dei problemi e quindi ho la necessità addirittura di gerarchizzare i problemi e questo è un approccio l'approccio invece quello più come dire di design è una ricerca progettuale cioè il design è sostanzialmente la capacità di combinare e scegliere ingredienti diversi qual è la cosa diciamo particolare è che io posso dargli le conformazioni che ritengo più corrette più giuste le cose che mi sembrano in qualche modo in una totale libertà creativa che per me abbiano un senso mi permettano di esprimere un messaggio di dare sostanzialmente dei significati ve ne faccio vedere uno ve lo faccio vedere su un'opera anzi casualmente in queste slide ho una cosa che mi è servita per un altro tipo non mi ricordavo di averla vi faccio vedere due esempi uno che riguarda un progetto culturale e uno che riguarda invece un prodotto culturale sapete che cos'è questo? Emanuele lanciati no no dai forse mica ti caccio che timida Federino che dici? e che film ti ricorda? vai morì vai morì che dici? vabbè vi faccio vedere un'altra cosa vediamo se allora 2001 di Stai nello spazio siamo sicuri? allora è 2001 di Stai nello spazio il film è questo allora guardate questo è un film del 68 è un film di Kubrick girato in quattro diciamo preparato in quattro anni e girato in diciotto mesi costato dieci milioni di dollari ovviamente dieci milioni di dollari del 68 nessun divo considerato dalla critica il peggior film di fantascienza ha vinto solo un Oscar per gli effetti speciali e basta eppure ha incassato 70 milioni di dollari solo nei giorni dell'uscita e ha oggi solo di sfruttamento theatrical teatrica vuol dire sfruttamento in sala ne ha guadagnati 200 milioni allora quali sono i fattori differenzianti di questo prodotto cioè gli elementi che caratterizzano il concept di questo prodotto guardate non avevo spazio quindi mi sono dovuto fermare la fonte dello script e cioè pensate tutto nasce da un racconto da questo racconto hanno tratto una sceneggiatura e un romanzo obiettivi gli obiettivi Kubrick voleva fare un film di genere cioè fantascienza un'esperienza visiva straordinaria addirittura toccando il subconscio l'idea di raccontare praticamente temi come legame con l'uomo tempo-spazio la scienza la ricerca di Dio cura stilistica maniacale cioè tutte le componenti sono super attenzionate dialogo di solo 46 minuti tutte le riproduzioni sono considerate le migliori in assoluto e poi la scelta del titolo che è stata un'altra cosa importantissima invenzioni narrative quello che vedevamo prima è il più lungo flash forward nella storia del cinema cioè quello di andare avanti spirito del tempo il formato di ripresa la presenza di simboli il super computer e il famoso monolite nero che compare commento sonoro una delle colonne sonore più famose che mescola i grandi classici con la contemporaneità e infine l'influenza culturale cioè il film ha condizionato tantissimo dalla parodia al design all'abbigliamento eccetera allora ragazzi cosa sarebbe stato se rimanendo un film di Kubrick si fosse chiamato viaggio intorno alle stelle avesse utilizzato Mendelssohn o Carmina Burana se invece di avere un monolite avesse avuto un cubo trasparente una piramide un tetraedo se avesse usato un altro formato di ripresa o se ad esempio avesse usato dei divi cioè quelle scelte quelle modalità fanno parte non solo di un discorso estetico cinematografico ma fanno parte di una scelta caratterizzante quello che era in qualche modo come dire in questo caso il progettista che era Kubrick ma andiamo sui progetti culturali no non vi può dire niente potrebbe essere un paesino nel Molisano potrebbe essere Tiziano dalle parti tu eh più o meno eh più potenza ok allora sapete come si chiama questo posto non ridete però questo posto si chiama Topolò ed è una frazione di un paese nell'Udinese che si chiama Grimacco è un posto che ha anche un nome sloveno perché sta proprio al confine Topolove ed è un posto che ci ha avuto un sacco di vicende per esempio è un posto che ha vissuto la emigrazione aveva 370 abitanti gli uomini siccome si faceva la fame perché non è che la fame si è fatta solo nel sud la fame si è fatta anche in certe zone del Veneto del Friuli eccetera allora gli uomini sono andati a lavorare in miniera e le donne hanno cominciato a fare quello che noi oggi chiamiamo le badanti in giro per l'Italia e per l'Europa dopodiché hanno avuto è un paese che ha vissuto fortissimamente il tema e il problema del conflitto con l'ex Jugoslavia cioè tutta la tensione che c'è stata negli anni dopo guerra tant'è che ci fu un morto una guardia di confine nel 52 dopodiché sapete cosa è stato Gladio avete mai sentito parlare di Gladio Gladio è stato un'organizzazione paramilitare segreta fatta dalla Nato per contrastare un'eventuale invasione del patto del blocco dell'Est allora Gladio essendo segreta aveva dei depositi di munizioni e una stazione importante è stata proprio a Topolò allora cos'è successo che oggi ha 33 abitanti si è tutto ristrutturato ed è diventato una sorta di albergo diffuso grazie ai finanziamenti comunitari sapete che si fa a Topolò a Topolò si fa un festival interessante che si chiama Stazione di Topolò Postaglia Topolove che è un festival di residenza cioè cosa succede qui succede che gli artisti vengono liberamente o invitati stazionano e creano sul posto utilizzano quello che c'è e possono essere dal web design quindi non hanno assolutamente i confini diciamo settoriali che abbiamo visto stamattina si mescono tranquillamente possono utilizzare tutte le diverse diversi spazi che ci sono sono obbligati a lasciare un libro alla biblioteca della città e sono in qualche modo coinvolti nella festa del paese che si chiama Seniam quindi il legame con l'identità la storia del posto con tutto quello che è la creazione contemporanea sapete quant'è il budget di questa cosa? Allora questa cosa è stata creata dal parrucchiere del paese con 150 euro cioè 300 mila lì nel 94 oggi il budget non arriva credo ai 2.000 euro ultimamente si è tenuto in piedi grazie al crowdfunding lanciato soprattutto da una giornalista del sole 24 ore è una cosa fichissima tra l'altro questa roba qui per esempio siccome vuole spostare i ritmi cioè dire sostanzialmente che bisogna essere lontani dai ritmi metropolitani gli eventi le cose accadono in maniera assolutamente indistinta a calare del sole alle prime ore questo è il programma alle prime ore del mattino cioè è tutto assolutamente nel segno della lentezza ecco allora questo è un tipo di design naturalmente assolutamente come si dice privo di riferimenti tecnicistici cioè è assolutamente autentico ma è un modello di design naturalmente potrei citarvi decine di eventi avvenimenti di progetti all'interno potrei parlarvi visto che ho lavorato in Umbria in questi due anni di come i musei in Umbria siano diventati luoghi dove si fa audience development cioè punto di mediazione per l'inserimento dei figli degli immigrati che sono nati in Italia i cosiddetti come dire si chiamano seconda generazione ecco cioè tutto questo viene costruito in una logica concettuale ecco lì per esempio quella è una logica assolutamente analitica no? costruito il progetto tenendo conto di un bisogno cioè quello di costruire sostanzialmente un meccanismo di maggiore integrazione di tutta una serie che poi in realtà come dire è un'integrazione fino a un certo punto perché questi ragazzi questi giorni si considerano a tutti gli effetti cittadini italiani quindi non c'hanno manco più legame con le culture di provenienza questo non è legato tanto alla capitale diciamo è stato più un'attività sì perché loro hanno fatto un sistema musei capito loro hanno creato sistemi hanno creato il sistema bibliotecario e il sistema musei e poi sulla base del sistema musei hanno in qualche modo arricchito queste strutture lì il problema che ha l'Umbria è quello di dialogare musei territoriali con i musei nazionali musei statali perché lì non si riesce per esempio a fare una card va bene andiamo avanti invece allora arriviamo così vi faccio un attimo giocare ecco arriviamo un attimo al discorso del sistema d'offerta che vuol dire sistema d'offerta sistema d'offerta vuol dire in qualche modo quello che il progetto alla fine offre ai suoi target che cosa può mettere a disposizione allora diciamo che noi abbiamo tre profili su cui lavorare ogni profilo può originare una gamma una gamma di che cosa una gamma di attività però noi potremmo usare più appropriatamente l'abbiamo già detto stamattina la parola esperienza può fornire dei prodotti oppure può fornire dei servizi i tre profili sono sostanzialmente quelli che trovate qua un'attività centrale che il progetto in qualche modo riconosce e come dire identifica con il cuore del progetto stesso cioè io decido di fare un certo tipo di attività quella è la mia attività core un secondo profilo che non è indispensabile ma che può generarsi che sono tutte quelle attività quelle azioni quei prodotti che arricchiscono l'offerta principale per esempio faccio un piccolo festival di danza chiedo ai coreografi di fare delle masterclass di fare dei laboratori allora questa roba è un plus rispetto a quello che faccio devo solo capire se questo plus produce del valore aggiunto per esempio potrebbe concorrere alla redditività dell'iniziativa può darsi di sì bisogna capire se questa attività aggiuntiva genera costi ma io potrei anche per assurdo avere un'attività arricchita che genera costi non produce ricavi ma genera reputation a progetto cioè lo riesce in qualche modo ad accreditare maggiormente poi ho un terzo profilo chiamiamola attività collaterale che invece riguarda solo esclusivamente servizi che migliorano la fruizione al progetto per esempio se io faccio un'attività e creo un infopoint oppure un sistema di prenotazione telefonica quella è un'offerta collaterale che migliora il sistema di accesso al progetto anche qui devo capire se mi prendo io in pancia i costi di questa attività o se invece li rifletto li riverbero sull'utente per esempio la prevendita di qualche cosa è sicuramente un'attività collaterale che ribalta un pezzo di costo se non tutto il costo sull'utente allora prima domanda che vi faccio in un'attività che in un progetto che vuole valorizzare qualcosa oppure che presenta un evento eccetera la parte food è un'attività arricchita o un'attività collaterale collaterale posso dire dipende? Dipende da come struttura l'attività mi spiego se io metto un distributore automatico di sandwich o di acqua sto offrendo un pezzo un servizio e quindi è chiaro che è un'attività collaterale cioè soddisfo sostanzialmente il bisogno dell'utente di mangiare nel posto nei luoghi dove c'è ma se io caratterizzo l'offerta del food legandola ai contenuti culturali del progetto posso far diventare questa attività arricchita soddisfacerà sempre un servizio diciamo un'esigenza del cliente ma lo può fare in un certo modo con una certa modalità vi faccio un esempio quando ero alla festa del cinema in cui vi parlavo stamattina un anno noi l'area food l'avevamo divisa in due in una io avevo un stand di autogrill che faceva un punto di ristorazione molto veloce chi va nei festival vede molti film a tempi molto stretti tra film e film guardate ci sono dei maniaci gente che si vede quattro film al giorno cinque film al giorno cioè dalla mattina alla sera come fanno non lo so comunque hanno bisogno di mangiare velocemente cioè non stanno tanto tempo lì allora lì loro potevano mangiare i classici prodotti d'autogrill il panino quello mezzo al marmo di Carrara avete presente ecco la roba lì il trancio di pizza la bibita 6 euro e va bene dall'altra parte con l'agenzia regionale del Lazio che si occupa dei prodotti tipici avevamo fatto un punto ristoro che funzionava al tavolo o serviti o a buffet ma ogni sera un chef del Lazio dedicava una parte di quell'offerta di cibo ai film che erano nella selezione ufficiale naturalmente costava 30-40 euro ecco allora non è che è obbligatorio non ho una pistola puntata alla tempia ci sono delle cose che possono essere sempre nel solco della coerenza che mi convincono di cui per esempio posso sfruttare un partenariato posso mettere in evidenza delle cose naturalmente ragazzi state attenti a non forzare le cose perché se le cose le forziamo creiamo delle strutture oversize del progetto un merchandising dove sta che dici è qualche dubbio cioè non lo so non ti so rispondere no certo che dipende però cioè se io faccio una mostra e faccio un mega catalogo ricco di contributi scientifici è chiaro che sta nell'attività arricchita ma il gadget nell'attività arricchita non lo so non lo so però non so manco identificarlo come un servizio dipende dal tipo di gadget guarda perché per esempio se tu vai a un concerto e quello ti dà il cd con la registrazione fatta lì sul momento non lo so se è un'attività arricchita potrebbe essere un'attività arricchita però in quel caso nel caso specifico è quasi collegato all'attività centrale in un certo senso no comunque adesso a noi non è che abbia molta importanza a noi importanza didatticamente quello che stiamo ragionando poi non è che uno quando uno presenta l'offerta presenta l'offerta nel suo complesso la parola arricchita è sempre una parola d'ordine che funziona quando parli con l'interlocutore istituzionale la cosa importante che noi dobbiamo capire è quando è che una cosa che inseriamo aggiungiamo ha un valore aggiunto questa è la cosa importante vi dicevo il merchandising perché il merchandising noi dobbiamo considerarlo oggi prevalentemente un mezzo di comunicazione non è una roba che ci fa fare ricavi non incide sensibilmente ormai il merchandising non funziona manco più sui musei cioè sui musei funziona se poi rimane nei concert store nel book shop e poi viene venduto nel tempo ma lì per lì ormai non c'è più questo potere funziona se vado al concerto di Vasco Rossi e mi compro il cappellino e una maglietta perché lavoro su numeri alti ma diversamente è più complicato e ricordiamoci che se io faccio un certo numero di oggetti di gadget e poi non li vendo quella roba lì ce l'ho tutta sul groppone ok allora invece che cos'è il palinsesto che vi vorrei provare vi vorrei invitare a provare a fare cioè io vi do ma ve lo faccio come dire sperimentare cercando di farvi capire l'importanza che ha questo genere di esercizio per simulare il funzionamento del progetto cioè le ricadute organizzative che poi il progetto origina allora cos'è un palinsesto quello che succede nel progetto cioè la calendarizzazione sostanzialmente la scaletta sapete il palinsesto è rubato come concetto alla televisione alla radio cioè il palinsesto della giornata è il programma della giornata il palinsesto di un'iniziativa a seconda di un'iniziativa può essere una cosa molto semplice cioè una cosa che accade per esempio il programma di un convegno è il palinsesto di un convegno quindi tutto quello che accade la sequenza naturalmente io posso seguire una liturgia precisa che è propria di un settore oppure posso subarticolarla ma perché per noi è interessante in termini progettuali intanto perché denota l'offerta principale cioè nel senso che una volta che ho capito che cosa faccio il palinsesto è quello che diventa quasi l'elemento di front line rispetto ai miei interlocutori utenti eccetera secondo perché traduce operativamente il progetto in comportamenti da tenere quindi un rapporto con gli spazi un rapporto con i tempi un rapporto con tutte le facility che devo attivare tutta questa roba qui non solo ma caratterizza anche in un certo senso come dire un po' lo spirito che sto dando all'avvenimento cioè mette in evidenza esattamente come voglio che sia vissuto che sia partecipato per esempio ve ne faccio vedere uno questo è un palinsesto che riguarda un reading di letteratura allora io ho a un certo punto l'ingresso degli spettatori e poi ho una struttura che è quasi un formato legge il primo autore legge un attore c'è un intermezzo musicale c'è una pausa legge un secondo autore legge un secondo attore e c'è un intermezzo musicale quindi una struttura assolutamente super geometrica allora intanto questo comporta che il palinsesto si lega fortissimamente al formato che voglio dare al progetto posso usare un formato assolutamente di quelli preesistenti esistenti lo rubo e lo prendo a operazioni analoghe da questo punto di vista potete riconvertire rilaborare quello che volete può essere preso in toto perché tanto cambieranno i contenuti quella diventa una scatola una griglia oppure può essere in qualche modo reinventato e reinterpretato allora io vi inviterei lo potete fare quanti siete potete fare anche come dire in coppia forse può essere la cosa migliore oppure in gruppi da tre eccetera a provare a fare il palinsesto di una piccola rassegna cinematografica di cui io vi do i vincoli vediamo quello che esce fuori la sentite siete stanchi no va bene allora carta e penna allora sceglietevi i compagni di merenda con cui fate compagno di bosco ah compagno di posto anche perché Federica abbiamo capito che la merenda è una cosa un po' più no giusto è una cosa un po' più impegnativa no è piccola mangia delle cose che voi umani non potete non avete mai visto allora allora io intanto ho imparato i nomi di tutti no invece vorrei imparare i nomi di tutti allora ricominciamo Manuela con la M Valentina che però ha cambiato pettinatura e quindi no ecco quindi ecco perché va bene Valentina Federica Francesco Elisabetta e Tiziana Salvatore Gloria Emanuela Maurizio Cristina che non l'avevo nominata Claudio Elisabetta 2 Laura Paola Agnese Simona e Andrea e Alice Benissimo la mia andropausa e il mio andante Alzheimer vi confonderà tra dieci minuti ma insomma vediamo che ci proviamo allora siete un festival internazionale che si svolge tutti gli anni nel mese di giugno dal venerdì alla domenica della settimana successiva quindi stiamo parlando di dieci giorni di programmazione ok questo festival si svolge in una multisala dove ci sono quattro schermi il primo schermo quindi la prima sala è di 400 posti il secondo schermo è di 270 posti il terzo schermo è di 120 posti e il quarto è di 50 posti ripeto eh 400 270 120 e 50 va bene queste sale sono messe due al primo piano e due a piano terra e come dire sono ubicate in modo che praticamente siano intorno a una specie di foyer di grande atrio su cui da un lato c'è un punto bar e in mezzo c'è uno spazio libero che se volete potete utilizzare per fare conferenze stampa incontri eccetera va bene una solo questo spazio centrale no? come se fosse sing sing no? siete presente? giù in mezzo c'è questa area in questo festival voi avete anche avete avuto nella vostra storia anche film importanti e quindi anche talent importanti per cui avete una piccola non frequente attività di red carpet cioè di tappeto rosso ovviamente fuori del ok? allora dovete programmare tre sezioni di film la prima sezione si chiama selezione ufficiale ed è fatta da dieci film in concorso e due film fuori concorso quando parlo di film fuori concorso quindi stiamo parlando di dodici pellicole quando parlo di film fuori concorso intendo dire due blockbuster che quindi non vanno in concorso perché magari usciranno dopo di voi in sala ok? quindi abbiamo detto dieci più due di questi dieci più due siete autorizzati a fare per ciascuno tre screening cioè tre proiezioni la prima proiezione è riservata come anticipata per la stampa la seconda proiezione è quella col pubblico con i talent in sala e la terza è una replica ripeto la prima è riservata solo alla stampa la seconda è pubblica aperto al pubblico ma con i talent la terza è una replica per il pubblico ok? la seconda sezione è una sezione sperimentale dove dentro voi avete dieci film che possono essere film autoriali film sperimentali documentari eccetera di questa come dire di questo di questa sezione potete fare due screening come volete purché uno sia per con i talent cioè con gli eventuali registri ospiti non avete l'esigenza salvo che non lo decidiate voi di fare un anticipato a stampo cioè potete andare direttamente con una replica subito col pubblico e poi una replica dieci però in questa sezione vi do un jolly vi do un jolly in questa sezione avete tramite un accordo con l'associazione pubblicitari 40 spot pubblicitari d'autore della durata ciascuno di un minuto quindi avete questa cosa che potete usare non avete vincoli potete usare come volete terza sezione una retrospettiva su un grande regista parliamo di film da cineteca e avete cinque film dedicati a questo regista non avete nessun limite o vincolo di screening perché vengono da una cineteca quindi non è che avete obblighi particolari allora attenzione state attenti ragazzi eh le anticipate dunque dovete capire come funziona in genere l'iter è che si fa un'anticipata stampa una conferenza stampa con i talent e poi la proiezione con talent e pubblico allora per questo motivo l'anticipata stampa o avviene la sera prima del giorno in cui faccio la proiezione con i talent o avviene la mattina prima della conferenza stampa le conferenze stampa si fanno normalmente tra mezzogiorno e le due a seconda di quanti talent ci avete eccetera quindi potete mettere in calendario le anticipate stampa o la sera prima o la mattina presto poi attenzione qual è il problema oggi per questo gioco che stiamo facendo che noi non conosciamo i titoli dei film e non conoscendo i titoli dei film cosa ci manca? la durata quindi dobbiamo usare la tecnica degli slot sapete cos'è uno slot? uno slot negli aeroporti lo slot sono come dire l'arco di tempo che presuppone una disponibilità per una partenza no? cioè la pista come si chiamano le insomma le zone di partenza hanno un certo numero di slot per cui noi abbiamo bisogno di immaginare che rispetto alle sale ci sia un certo numero di slot allora siccome non abbiamo le durate dobbiamo ragionare su una durata media di 120 minuti ma voi dovete stare attenti vedete ragazzi perché è importante il palinzesto perché voi dovete calcolare i tempi di affluenza i tempi di deflusso e i tempi per pulire e rimettere in ordine di marcia la sala ok? quindi primo vincolo variabile poi attenzione abbiamo detto che potete avere anche fili importanti questo vuol dire allora che avete bisogno di programmare questi film per le proiezioni al pubblico soprattutto quella dove ci sono i talent che possono fare da piedorosso in modo tale da intercettare i servizi radio televisivi allora per far questo voi avete bisogno che questi servizi passino possibilmente o nelle edizioni della sera che vanno dalle sette e mezza più o meno alle nove o nell'edizione della notte o del giorno dopo ora di pranzo allora per far questo bisogna che il tappeto rosso e il film siano programmati in modo tale che viene fatta la ripresa al passaggio degli artisti venga montato il servizio e il servizio possa andare ovviamente ai TG lo so che è difficile però guardate è un Tetris è un Tetris però è un incastro molto importante potrei essere anche più cattivo volete che sono cattivo di più? Saviano ha deciso che viene a vedere un film il giorno tot Saviano viene a vedere un film il giorno tot si allora guarda faccio un esempio vi aiuto sono buono vi aiuto se il TG che mi interessa sta tra le sette e mezza diciamo le otto e le nove grossomodo poi dipende dipende dal TG regionale eccetera io ho bisogno che il Tappeto Rosso sia fatto in modo tale che tra le sei e mezza e le sette e mezza sia montato il servizio quindi vuol dire praticamente che il film può cominciare alle sette e che quindi il Tappeto Rosso lo posso mettere alle sei dopodiché devo capire se c'è un secondo film 7-21 un tempo per smobilitare la sala e rifare l'ingresso e poi non scavallare sostanzialmente la mezzanotte in teoria ci sono i tempi vuol dire che praticamente se il film lo metto alle 21 e 30 o alle 22 posso immaginare di fare un Tappeto Rosso notturno che va nel montaggio dei servizi delle edizioni notturne di TG guardate noi la stiamo rendendo molto difficile ma per me è molto importante che voi abbiate nei vostri progetti un sacco di variabili questo è l'esercizio ok altra cosa importante che vi ho detto della sezione ufficiale quanti sono i film in concorso quindi c'è un concorso e quindi se c'è un concorso c'è bravi brava Emanuela Emanuela brava Emanuela c'è una premiazione allora abbiamo detto che i film sono nazionali o internazionali ecco quindi che succede che che cosa Manuela non stai attenta però basta allora internazionali che succede ragazzi succede che il se vince un film che è passato i primi giorni e non è che io i talent ce l'ho tutti i giorni lì che rimangono tutto il periodo cioè vengono a fare il film e se ne vanno a casa quindi no quindi eh no scusate vuol dire che voi dovete interrompere la programmazione del film in concorso il giovedì o il venerdì della settimana dopo in modo che sabato possano viaggiare quelli che devono essere premiati la domenica giusto cioè se vince il film che è andato in diciamo stato proiettato il giovedì lo faccio rimanere ma se vince un film che è stato proiettato il venerdì il sabato della settimana prima quello è tornato a casa se lo devo premiare lo devo far ritornare quindi devo dargli il tempo di arrivare da dove deve arrivare che c'è Elisabeth non ti convince eh? non è che tutti i festival sono ospitali come voi cioè capito poi ragazzi ci sono i costi le cose le bizze le robe eccetera hai capito? quindi questo poi altra cosa giocatevi bene i due film fuori concorso perché quelli vi servono per fare qualche cosa e vi dico anche che voi avete dei giorni buoni e dei giorni meno buoni quindi dovete per esempio un giorno i buoni sono il weekend e poi avete l'inizio a cui dovete vi sto aiutando avete l'inizio su cui dovete lavorare e poi la premiazione che fate? date solo i premi a rivederci o non succede qualche altra cosa? per esempio la proiezione del film vincente dice Salvatore la scena di gala non rientra allargare la scena di gala ecco però capito insomma queste sono le cose sei convinta Dizia? ok che altro vi devo dire? no direi che può bastare no? eh sì eh coraggio vediamo che esce fuori ecco allora qualche consiglio datevi io dopo tra un po' all'improvviso vi proietto un palinzesto all'improvviso anzi vi proietto un criterio per fare un palinzesto così per esempio io farei una giornata tipo cioè costruisco una giornata tipo che è sempre quella ma i criteri possono essere tanti potete stabilire un criterio per esempio in cui attribuite una sezione alla sala potete stabilire dei criteri legati agli orari cioè avete veramente oh noi adesso ci divertiamo quello che viene fuori viene fuori normalmente si passano dei giorni a fare questo lavoro no tu devi degli incroci anche perché Manuè senza E Manuè tu devi sostanzialmente immaginare che tu hai quattro sale che funzionano in contemporanea quindi devi stare attento a non creare i flussi e dei flussi mentre ci sono due sale in funzione cioè uno comincerà dopo uno comincerà prima oh scusate avete tutto il giorno a disposizione potete usare tutti gli orari che vuoi anche le nove del mattino certo per le anticipate stampa sì allora puoi scegliere o fai puoi scegliere o fai una giuria qualificata o fai una giuria popolare no coraggio vediamo che esce fuori dai possiamo spostare eh possiamo spostare sì dovevi andare a fuori allora scusate dice il mio capo che possiamo fare ci ha concesso cinque minuti vi ha concesso dieci minuti di pausa prima che ci ripensi approfittatene una chiave o vi siete impantanati era complicato adesso a parte quelli con cui poi abbiamo parlato abbiamo rivisto no no vai 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 perché come diceva la pionda abbiamo all'inizio stavamo facendo un po' di confusione poi ci siamo dati una regola in termine a ragionare per chi viene per fare una realizzazione quindi danno priorità e quindi in concorso danno priorità in concorso e poi andando a seguire la ricche e la programmazione ok allora guardate questa è una cosa importante cioè quando avete da incastrare delle cose e dovete capire cosa guida chi so quali sono i driver del progetto questo vale anche nelle altre fasi di progettazione cioè per esempio nella costruzione del concept quali sono i driver che guidano la costruzione dell'intero progetto quindi l'idea di avere comunque delle funzioni guida dei concetti di vita ok va bene poi aggiungo delle altre cose Lizia complesso e anche complicato complesso e anche complicato a livello sistemico diciamo che non abbiamo raggiunto è un sistema è un sistema non abbiamo raggiunto qualche area di lettura rispetto a tutte le diciamo le giornate stiamo dicendo considerando anche che la prima giornata avevamo pensato per l'inaugurazione quindi prima mattinata non derivate le proiezioni solamente una proiezione la stampa stampa è anche l'ultimo giorno da considerare le premiazioni tutte le conferenze eccetera quindi comunque come programmazione c'erano 8 giorni 8-8 giorni allora anche questo fa parte dei concetti guida cioè voi cambiate quali sono i vincoli quando abbiamo parlato oggi degli elementi must quali sono quelle circostanze quelle cose che non potete assolutamente cambiare per esempio il fatto che ci sia la premiazione è un elemento che non potete cambiare è una circostanza innamoribile quindi quella va salvaguardata la fermata poi invece sull'inaugurazione avete varie possibilità può essere opportuno cercare di spararvi una grande anteprima cioè un'operazione che fa un po' da traino da lancio anche sui media dell'iniziativa salvaguardando un po' il sistema c'è quello appunto per cui c'era anticipato la stampa però giustamente più di qualcuno ho visto come si è cautelato avendo 7 barra 8 giorni di programmazione in realtà 7 sui film in concorso se uno fa fuori concorso il primo giorno diciamo che tu ne devi fare perlomeno 2 al giorno con qualche giorno che puoi insomma ecco qui però conta un'altra variabile i giorni buoni e i giorni meno buoni per esempio i giorni buoni sono il weekend mentre invece i giorni buoni sono il lunedì il martedì sono giorni un po' più mosci allora lì lo devo rinforzare con le repliche per esempio per esempio la replica del film fuori concorso che sarà un blockbuster cerco di spararmela magari il lunedì così c'è un po' di movimento ok e voi? noi c'è un po' di confusione non so se è un po' strabico ma il problema il problema è capito che Gloria tu sei partita in quarta Gloria era lì pronta non c'è dovevo dire nome e cognome ciao ah te la dai eh Valentina riferisce lei va bene allora Simona e la Agnese vai allora noi abbiamo trovato un po' di problemi nel castro perché siamo partiti diciamo un compito di banditato volevamo già incastrare i film senza capire in realtà quello che c'era da fare non abbiamo finito però a un certo punto siamo riusciti ad arrivare a una chiave di lettura appunto sia utilizzando la numerosità dei film che ragionando sulla durata appunto aggiungendo dieci minuti tra l'arrivo delle persone tra l'inizio della nottata eccetera e avevamo previsto appunto una conferenza stampa di apertura la mattina nell'atrio sì nell'atrio quello vicino al bar ok piuttosto che nelle sale è in modo da animare vabbè gloria adesso a voi no dunque noi sì abbiamo diciamo che siamo adurati di la verità gloria non è arrivata ma fa niente messa le strette proprio subito così no non era questa la verità è che avete calendarizzato pure la pappa pure il pranzo quella è stata la prima cosa quella è stata la prima cosa vabbè vabbè sì sì stai riuscendo diciamo che abbiamo mantenuto una una calendarizzazione di un film fuori in concorso al giorno e e e due proiezioni di un film in concorso al giorno con la replica al giorno successivo e più o meno diciamo per i tre giorni che abbiamo calendarizzato funziona funziona così vabbè sì va bene abbiamo la loro pizza la loro sui sui suggerimenti va bene va bene e voi Paola noi abbiamo iniziato a lavorare prendendo diciamo la circoscrizione temporale quindi ragionando sul numero dei film e cercando di programmare la giornata tipo però così facendo abbiamo avuto difficoltà con un cazzo conferenza stampa che aveva appunto questa fascia oraria dalle 12 alle 14 si può si può obbligare si è sistemata fuori con le due proiezioni con la stampa fuori l'intervenutore si è sistemata ok va bene cri io e i miei amici immaginari pensavo di partire dal presupposto abbiamo fatto un timing come magari si è stato da altre parti perché innanzitutto vorremmo vedere come si stavano i film e poi le hai dato comunque quattro fane a disposizione no ma sta fotografando il coniglio rosa era quello vicino a te il venerdì come anche il beta anticipato noi abbiamo fatto la mattina la stampa per il primo colosso il film fuori concorso la sera per l'apertura e lo stesso la domenica oltre la proiezione del film vincitore verso più sole sette però la sera si chiude sempre con un film e le repliche per tenerle nei giorni morti le più repliche le dimanche mercoledì per esempio ok ecco non finisci scusami e invece per quanto riguarda quelli sperimentali del terzo dei primi che abbiamo sistemato ma per con per cap per fare i punti in grado ad esempio da risistemare e definire perché magari se iniziano da fare un po' o da qualche altra parte quindi posso stare tranquillamente ok tenendo la prima la prima di mattina e la seconda la prima di pomeriggio sono due repliche sperimentali si i buoni i buoni concorso sono tre repliche la sera sono tre screening una replica tre proiezioni tre proiezioni si chiamano screening l'anticipata la prima la prima di mattina la prima della sera del giorno dopo se se l'altro film oppure se faccio l'anticipata di mattina la mattina del giorno no no il giorno stesso sì io non volevo sopporre quella con il talent allo stesso momento sera sera no e se vorrei prendere due film in concorso al giorno eh ma ce la fai qual è il problema la fai in orari diversi però se io vado a vedermi cioè un film fuori concorso non me vede un altro fuori concorso ah beh spera che cambi audience che so tutti quelli prendi no però a parte che ci stanno ho detto io ho visto poi dipende dall'offerta che c'hai dicevamo prima se c'hai un film in concorso uzbeko col sottotitolo in russo eccetera cioè magari non ce l'hai a vedere due film no perché c'hai il problema che deve essere non puoi creare uno sfasamento troppo troppo forte cioè tu volendo la puoi anche fare un giorno dopo ma la fai la sera non la mattina perché c'hai il film con i talent e che ti ci viene la mattina va bene Marmo allora noi siamo partiti invece dalle sale cioè del numero di posti delle sale quindi dove poter inserire ogni film in quale sale no proprio per dare no importanza al film no ok e niente siamo partiti dalla no più o meno la filosofia niente abbiamo sistemato diciamo un film in concorso ogni sala la mattina hai questi film un film in concorso un film sperimentale dove l'avete messo il film in concorso nella sala nella prima sala 400 ok e poi alla fine c'era conferenza stampa cioè alla fine della mattinata diciamo per le doci del film e quindi tutti gli altri film delle sale e delle altre sale finiscono prima in modo che nell'altro ci sia la conferenza stampa sì ma non ci avete movimento perché quello è importante non avere no 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 finisci finisci due domande da fare e quindi poi gli altri film poi iniziano nel pomeriggio verso le tre e mezza e finiscono la sera con quel che c'è avuto i tempi di uscita sì tempi di uscita anche del pranzo cioè ma siete proprio preoccupati che debbano mangiare le persone c'è veramente una cosa sentite ma come avete affrontato la questione degli spot quel programma non avete avviato non pervenuto non pervenuto non pervenuto non pervenuto sono in teoria sono 40 spot sono 10 giorni però dato che è uno spot pubblicitario appunto è una pubblicità in teoria di metterne di più nel il team di orienti gente per fare contetti pubblicitari quindi sì vabbè però non è interessante più pubblicitari è più un'operazione culturale tutti i spot non entravano nella sezione sperimentale sì stavano nella sezione sperimentale quindi noi abbiamo fatto semplicemente diviso 40 per i 10 film ok e hai fatto 4 minuti a film 4 minuti a film a inizio a film va bene voi? noi lo abbiamo considerato non l'avete considerato non ci siamo arrivati noi due spot no ok va bene allora vi dico come l'abbiamo fatto di corsa quindi queste cose possono rompere uno schema allora non è sbagliato metterlo praticamente in accompagna un film anche se essendo uno spot pubblicitario io poi devo chiedere agli autori del film se sono disponibili a essere preceduti ma bene noi esseranno tutti va bene però vi dico cosa avrei fatto io io avrei fatto una notte pubblicitaria cioè una proiezione da mezzanotte fino alle 3 in loop dove puoi venire lì ti preparo anche un catering ti sdrai un po' dormi un po' ti vedi lo spot e quindi l'avrei fatto sotto forma di evento per dargli una cosa organica perché se gli spezzetto tanto è come se diventasse una sigla ok quindi questo è l'unico limite dello spezzettamento oppure avrai creato una roba in loop nei punti di attesa per la gestione delle quote ma non è stato che doveva essere inserito all'interno della sezione sperimentale sta sempre nella sezione sperimentale viene presentato in una sezione sperimentale ma come tu lo programmi sei autonomo sei libero nell'area quindi barricante anche nell'area nevrogica c'è la parte centrale da dove c'è l'area di storo si possono proiettare sì tu potresti montare una roba che proietti come sono spot pubblicitari tu o gli dai una grande dignità e lo elevi a rango di film o li metti in supporto alle programmazioni o li metti in una situazione dove queste cose vanno su tre schermi contemporaneamente e popolano dico piano barra dietro tre schermi e poi per così si può fare durante un progetto allora io dipendo dalle folle che ho però la gestione delle quote non parliamo dei grandi numeri la gestione delle quote è sempre una cosa interessante no? cioè io gli faccio fare sapete chi sono i più grandi da questo punto di vista? La Disney la Disney ha proprio una logica pensata per gestire le quote perché loro hanno un problema sui loro parchi nelle attrazioni che le quote durano ore capito? allora questa potrebbe essere una soluzione quello che io nel frattempo scambio due parole succede qualcosa che vedo in mondo tenendo conto che dura un minuto e però per fare questo chiaramente a monte ci deve essere anche una verificazione dello spot insert cioè gli spot devono usare un linguaggio particolare in modo anche di realizzare quel loop di cui tu parlavi chiaramente lo spot deve essere studiato in modo tale da attrarre quasi anche quali relativamente però tu i spot ce li hai già al default quindi è più un problema di come li confezioni cioè di come li metti uno attaccato all'altro che non puoi intervenire sullo spot cioè quello tu ce li hai già alcuni spot banali che fanno che comunque però sono spot firmati autoriali quindi tendenzialmente dovresti essere un po' più tranquillo salvaguardato rispetto cioè non c'è lo spotaccio capito c'è una cosa il Fellini che faceva lo ricordate non lo ricordate eravate troppo piccoli il Fellini fece degli spot per Barilla c'era il film dove c'era Gradisca che diceva ricordate il personaggio allora a questo punto lo faceva anche il personaggio analo che ricordava questo lo faceva sui rigatoni Barilla allora tu hai spot come questo oppure Dalatri Alessandro Dalatri ha lavorato tantissimo nella pubblicità non so se ve lo ricordate lo spot con Lopez della Telecom dove lui doveva essere fucilato e stava l'ultima telefonata e questa telefonata non finiva mai e diceva la telefonata è lunga la vita quello è di arrestare un'altra per Cavaliere deve avere il microfono col cavo pure lui non me lo agevolate che fate tutto lo sguinzo lui non ha il vestito lui non ha il vestito perché l'altro ok va bene però mi ha aiutato a fare uno scherzo se vuoi possiamo procurarci un microfono con il per far finiranno finto ma tu non sei perfida finto perché ci sta ascoltando no non ci sta ascoltando 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 va bene cosa avete imparato da questo esercizio a dare a prendere vari driver a prendere vari driver di intervento ecco sì dovete capire quali sono le cose che vi condizionano e vi regolano dovete capire che avete n variabili e che non dovete tralasciare nessuna poi noi non abbiamo non ci siamo soffermati su tanti punti di vista cioè nel senso che voi siete stati molto preoccupati da incastrare però per esempio a dare un minimo di come dire impronta rispetto al pubblico anche questa è una cosa importante l'esigenza del pubblico noi vediamo esigenze organizzative ma c'è anche un'esigenza del pubblico per esempio non abbiamo investigato sugli orari no? per esempio rispetto agli orari orari legati ai ritmi del lavoro nella giornata cioè questo è importante perché intanto vi condiziona da un punto di vista un'altra variabile è dovete stare attenti ai film che vi fanno fare box office perché se il festival non abbiamo detto sta anche sui vostri ricavi è evidente che non ricavate con l'altra rispettiva anzi quella insomma è una cosa molto più così un po' di prestigio non abbiamo previsto per esempio incontri potremmo mettere anche degli incontri cioè offerta ricchita noi con l'altra rispettiva eh? con l'altra rispettiva di un incontro con l'altra è un incontro con l'altra rispettiva se l'artista è vivo non per portare un critico da un'altra rispettiva si esatto puoi avere che ne so puoi creare un piccolo micro convegno ma anche scusate anche con i registi della parte sperimentale no puoi fare un paio di incontri col pubblico puoi fare una cosa che precede il film capito? adesso noi abbiamo dovuto fare in maniera molto stretta a me mi interessava che voi vi mettevate a fuoco delle cose però questo è un lavoro dove voi vi fate una lista dei requisiti di come deve essere la programmazione e poi vedete spuntate se state rispettando tutti i requisiti va bene? facciamo un piccolo ci abbiamo ancora qualche minuto? sono le sì ma sì metà di tre minuti no volevo solo fare un piccolo come si dice esame di coscienza di come è andata oggi cioè dove vi sembra che manchino dei pezzi dove non vi tornano le cose cosa abbiamo bisogno di riprecisare lo so che io vi ho bombardato e quindi è facile che siate anche un po' confusi quindi avete proprio bisogno di riorganizzare il day quindi magari la domanda la ripeto domani mattina iniziando però così a caldo c'è qualche cosa che proprio come dire è rimasta così che è appesa abbiamo bisogno di dire due parole ci salutiamo e basta che volete fare blonde giornalisti ci stanno e stanno antipatici no perché noi giornalisti quelli del cinema ma certo avete ragione sono insopportabili infatti gli mettete le anticipate stampa alle 8 di mattina io faccio io voglio mettere di chi io devo dare le 8.30 questo lavoro e non scelta vedi biancaneve con cortello a seramanico va bene allora chiudiamo i lavori ci vediamo la mattina alle 9 puntuali ci abbiamo ancora un sacco di cose da fare domani vi faccio giocare con la SWOT con la SWOT e con il cante e con il cante se vuoi giocare con il cante vi faccio giocare con il cante anche con la WPS a tuo gusto WPS cante pert ecco questo è un esempio è una forma di cante i cante non sono solo quelli tradizionali i cante potete fare come volete va bene domani ricordandovi vi faccio vedere qualche esempio di progetto un po' strutturato il concerto vi faccio vedere domani ce li do tanto in chiavetta scanchinezza e però che abbiamo fatto unplugget cioè in agosto è bene ok grazie grazie